Quest'anno niente botti di capodanno. Il sindaco della città capoluogo ha infatti firmato nella giornata di mercoledì l'ordinanza 2209 con la quale dispone il divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici perotecnici di ogni genere nel territorio comunale. Nello specifico, come si legge nel provvedimento emesso, è fatto divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, artifici esplodenti in genere sul tutto il territorio dalle ore 21 di oggi, 31 dicembre, alle ore 4 del 1 gennaio 2022. Ovviamente la Polizia Municipale e le forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, è stato dato mandato per l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione dell'ordinanza e sono previste sanzioni pecuniarie salatissime per i trasgressori fino a 500 euro, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e confisca, così come previsto dalla legge. A vietare l'accensione, il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, anche altri primi cittadini, tra i quali il sindaco di Montemiletto Minichiello e il sindaco di Avella Biancardi per la tutela della quiete pubblica degli animali, della sicurezza e dell'incolumità pubblica e del patrimonio.